bella a tutti ragazzi siamo qui in un nuovo video vi volevo dire che ho fatto un video su FIVO15 e lo sto diciamo lo sto caricando però spero di farvelo avere al più presto questa volta vi porterò un video su su wrestling però non uso le scale perché se no mi faccio tanto male userò però le sedie le sedie è un po' pazzo ovviamente non ho una persona umana se no lo spacco o viceversa e niente spero che questo video vi piaccia io sono qua con il mio elefante non lo so mi viene da ridere però spero che vi piaccia e quando diventerete diventerete più in tanti se volete più tanti vi cioè mi scrivete sotto nei commenti tipo che posso fare tipo archi io su tavolino che io tipo metto due sedie perché ne ho due metto due sedie poi ci metto tipo un cuscino di questo in mezzo faccio finta del tavolo eccetera la power bomb tutto quello che volete diciamo a parte a parte quello che mi vuole portare da un letto alto un metro e sui 95 sui 95 perché quello l'ho già fatto ma male dai non perderemo i momenti vecchi e niente le sedie sono là non le prenderò subito perché vedete c'è un incontro non inizia ne così ok no l'ho fatta io e con la bocca e niente possiamo iniziare ovviamente mi farò picchiare anch'io non subito però se la sediamo dai iniziamo comunque non c'è sotto un materassolo c'è tutto un po' di un evento un po' di un evento oh no ma so chiudere le ricordate prendiamo prendiamo le sedie sì allora una è così normale e l'altra è proprio quella di wrestling e questa è la posizione faccio per sempre e l'altra come avete sentito quella di wrestling vero quella che si apre che ah se lo so ti dico ma io lo devo a terra sentito che sotto il mio piede c'è la sedia ma ne faccio cosa ne faccio e la gorilla presia mi metto in giro che vuoi far vedere adesso mi alzo boom donso e si donso di cauto sulla sedia uno due che bello power slam sull'altra sedia attenzione donso blackout ancora blackout adesso adesso faccio una mossa alla eddie guerrero la metto qui perché se no non si vede la rischia no no prima ne faccio tre su plex i drammi possi oh uno due ma hai stimolato tre ok ok botta fa male il pavimento poi con lo in legno e qualche madonna che dolore maschino vi caccio una cosa caccio vai mi dà negli occhi e spattate oddio oddio ah ah che botta madonna l'ho distrutta l'inflazio E' un po' di più. Ho messo l'altra sedia. Mo creiamo il tavolo. Così almeno vi faccio vedere un po' tutto. Ma è vero che mi faccio vedere così. Anche se non sono abituato a vedere così. Ovviamente non faccio tagli perché come ho già detto non mi piace. Però che mossa li faccio? Ce l'ho in mezzo lì a me. Non so se fai la paura. Sgamberto del cacchio. Distrutto. Eh sì, il cacchio mi salta addosso. Sì, ma ti ammazzo. Squizzi il mio genio. Uno, due, no. E fai. Oh, il cacchio non si vede più niente. È troppo vicino. Mi faccio la Thompson, basta. Sul tavolo, sì. Se mi faccio male sei un genio. Che l'ho già caricato, me lo vado di qua. Oh, raga, non l'ho mai fatto, eh. Oh, porca. Thompson by Drive. Oh, mi sono aperto l'ingue. Oh, che bene. Però sono fidata. Per il mio avversario è un po' meno, però. Oh, beh. Ah, perché? Oh, no. No, ma come fai? Mi chiamati. Portasci. Dechitra. Madagno. Quanto fa caldo quella felpa. Comunque parlando un po' di regine. Tanto che... A giocare. Per me non piacciono tanto le cose scorrette. Per me sono le cose più belle dei video di reffing. Ma io le faccio... Ma io le trasformo in tavolino. No, ma se stava lì. Quello di Sina... Oh, sti che male. Sono arrivato un po' troppo vicino allo schermo. Ah, sì. Ma io le faccio da tavolino. Stai qui. Bravo. Ma che bella. Ma che bella questa. Ciao. Ciao. Oh, che male. Ho fatto il crossbody. Uno. Due. No. Osti che ho ancora perso lì. Mortacci tua. No, ti sollevo la terra. E ti rimetto qua. Ecco cosa che prima non facevo calzare. Non so. Non so neanche perché i Dix si sono separati a causa di Tricolini. Pericolo. Pericolo. Oh. Da una sedia. No, da due. Ma che figato. Eh, devo atterrare più forza sul cuscino. Aspetta. Intanto glielo facciamo così senza atterrare noi. Sì, a mochi faccio una... Una cosa. Se me lo ribalta mi ammazzo veramente. No, beh, non me lo faccio ribaltare perché se no... Mi vado a slougare qualcosa. Incredibile. Pedigree. Che dolori. Anche se c'è la cuscina. Pedigree. Oh. Mamma mia che mossa. Questa sì è la bella. Se questo colpo era umano, questa mossa gli avrei fatto già uscire il sapore. Mi sbatte il collo contro qua così. Fortissimo gli esce tutto il sangue dalla bocca. Non ci perdiamo in chiacchere. Oh, che mossa che mi è venuta in mente. Non so se le viste. Spero di no. Lo lascio cadere da dire. Sì, perfetto sulla sedia. Oh. Ma mi lancio. Sì, dalla sedia. Sì, però aspetta facciamo. Allora, mettiamoli qualche cuscino. Eh, due cuscini. Sì, due cuscini. Sono due buffettini. Che mani faccio? No. Va bene, butto. Ah sì, con la di Shawn Michaels. Oh. Stamante non mi sono fatto niente. Non è come se cuscini. Mi diverte troppo giocare al wrestling. Fatelo sapere anche voi se vi piace il wrestling, se non vi piace. Oh, spezza palle. Oh, che male. Stacca. Vai, l'archiglio sulla sedia. Qua mi faccio tanto male alla spalla, però finisco invece. come? Oh, come? Una magia. Oh, è passato. Attenzione. Si lancia dall'altra sedia. Non si è tardi, facciamo una cosa che non è venuta. Si lancia dall'altra sedia. Oh, che male alla spalla. E va a vincere. Incredibile. Randy Orton. Comunque, visto che vi piace la serie del calcio, ho visto che mi piace e sono molto orgogliosa adesso. Oh, lanciamo sul pubazzo. E niente. Vi volevo dire grazie mille a quelli che si sono iscritti. Io non non devo dire niente. A parte una sorpresa per voi. Sapete quella sedia lì che usavo anche per calcio? Adesso si usa questa nei prossimi video. Yeah! Una porta vera. Vera, quella della kipska. Bene a tutti ragazzi. Adesso mi vado un po' a stare sul diario. Sì, sul diario. Sul divano. Poi faccio i compiti. Sì, mi fa male care la spalla dopo quell'archeglio lì. Ma non era questa. Mi fa male il ruotetur. Comunque abbiamo fatto tante belle mosse. La TomSense è stata fighissima sul tavolo. Comunque vi dico di iscrivervi e di lasciare un bel pollice in su. Scusate se sto video dura troppo. Ma non faccio i tagli. Bella. Ehm...